Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Questo non sarà un video divertente, sarà un video abbastanza serio Siamo qui per le strade di Berlino E io e Fabio camminando per questa città abbiamo notato che ci sono davvero tanti tanti senza tetto Tante persone che comunque non hanno un posto dove stare, dove mangiare Si sta avvicinando anche il Natale Il Natale si sa è un'occasione per stare in famiglia, per stare tutti insieme Per stare tutti insieme in affetto E si sa anche quest'anno molti senza tetto lo passeranno qui, in strada E secondo me è anche un regalo, proprio un semplice pensiero può far loro felice Così abbiamo deciso di prendere tre panini, tre hamburger E portare un panino a uno di loro Un piccolo pensiero che secondo me può far loro felici E nulla ragazzi, vi porto con me in questa piccola esperienza Andiamo Allora ragazzi, non tutti lo vogliono Adesso l'abbiamo usato a sto qua e forse non si sarà affidato Non lo so Abbiamo tre hamburger Ci sono rimasto male, giuro Perché proprio, non c'è senso Ci sono rimasto un po' male Seguite cosa ne pensate voi nei commenti Però magari avrà avuto le sue ragioni Non si fida di noi Esatto, continuiamo Ok ragazzi, la prima clip l'abbiamo già registrata Abbiamo dato il panino Era, ho visto che comunque Cioè, mi ha detto grazie Mi ha detto thank you L'ha preso anche subito Esatto, l'ha preso anche subito Quello di prima invece ha detto proprio No, no, ha fatto No, no No, anzi, ha fatto così con la testa Fa no, no, no Adesso ne cerchiamo altri due Vediamo un po' Comunque è bello Ti senti bene quando fai sti gesti Cioè, perché boh Io mi sento bene Sì No, non sto scherzando, davvero Sento bene Ragazzi, stiamo cercando dei senza tetto Ma non ne troviamo Anzi, no, forse ne ho visto uno Boh, vediamo se ho senza tetto Ragazzi, anche questo ha rifiutato Ha detto di no Ma non so se è quello ancora di prima È quello di prima Sì, sì Dai, no Siamo tornati da quello Siamo tornati da quello di prima Infatti l'ho visto un po' più scazzato Ha detto no Cerchiamo un altro Il bello, ragazzi Che non ne troviamo Cioè, è possibile Quando Cioè, di solito ne vediamo centinaia Ma zero Non ne vediamo Boh Tra l'altro stiamo morendo di freddo Perché fa un freddo Che non potete capire Ok, ragazzi Anche questo qui l'ha presa Quindi Sembrava anche abbastanza Molto grazie Sembrava abbastanza felice Non male E nulla Anche questo l'ha preso Quindi ci rimane l'ultimo panino E basta Cerchiamone un altro Questo era sotto un ponte Poverino Chissà Sarebbe bello anche sentire Le loro storie Vabbè Poi si entra nel personale Però sarebbe molto bello Aiutarli in qualche modo Ragazzi È quasi mezzanotte E noi stiamo ancora cercando Tipo l'ultimo senza tetto Ecco che urlano Stiamo cercando l'ultimo senza tetto Per dargli L'ultimo panino Sto andando via la voce Adesso Cerchiamo e poi ce ne andiamo In hotel Che domani Dobbiamo ripartire Domani fino alle 11 Abbiamo il volo Però è stata bella Questa esperienza qui Perché Cioè io ero un po' diffidente Su Berlino Però invece Lo rivalutate Molto molto bella Credo che abbiamo passato Quattro giorni Solo qui nel centro Sì abbiamo visto tante cose Sì abbiamo visto tante cose Tu io ho preso anche la multa 20 euro Poi vi racconto Ragazzi Non riusciamo a trovare un senza tetto Ve lo giuro Cioè prima ne vedevamo centinaia Scomparse tutti adesso Boh Hello Niente Posto Ragazzi il video finisce qui Spero vi sia piaciuto Vi consiglio vivamente Anche a voi Di vedere Quando vedete magari una persona per strada Di dargli Semplicemente anche Starci lì a fare due chiacchiere Comunque Offrirgli qualcosa Dargli un panino Qualcosa Perché davvero Hanno bisogno Di un po' di affetto Secondo me E quindi nulla Vi consiglio anche Soltanto di fargli un sorriso Perché molte volte Incluso me Li ignoriamo Quindi Non va fatta sta cosa Quindi mi raccomando Fate i bravi In questo video non chiedo like Perché non mi sembra il caso Vi ricordo solo di seguirmi su Instagram Samuele di Martino Underscore Noi ci vediamo al prossimo video Bella Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video